Con il referendum di domenica 17 dicembre, per la seconda volta i cileni hanno detto ancora no alla proposta di creare una nuova Costituzione, per sostituire quella voluta nel 1980 da Augusto Pinochet. Dopo il fallito referendum del settembre 2022, i cileni si sono opposti anche alla proposta di carta elaborata dal Consiglio Costituzionale a maggioranza di destra. A margine dei risultati del referendum, il presidente Gabriel Boric ha detto che non ci sarà nessuna celebrazione, ma che il governo è pronto a rimettersi al lavoro.